GF VIP, Alberto De Pisis in crisi dopo aver al televoto Luca Onestini, mi sento male, sono pietrificato. Il televoto flash che è stato lanciato durante la diretta della semifinale del Grande Fratello VIP ha lasciato tutti di stucco. Nikita la quinta finalista e raggiunge Edoardo Tavassi, Giaele Dedona, Mikolin Curvaia e Oriana Marzoli. A stupere è stata l'eliminazione a sorpresa di Luca Onestini. Ma andiamo con ordine. Durante la semifinale di lunedì 27 marzo i vipponi hanno fatto le nominate on palesi per decidere chi mandare al televoto flash. La casa è quasi tutta schierata nel mandare al televoto flash Nikita. La Pelizzon deve scegliere un avversario da sfidare tra Luca Onestini, Alberto De Pisis e Milena Miconi. L'influencer sceglie Alberto, che a sua volta tra lo stupore generale d'ex è di portare al televoto il suo amico Luca. I tre vipponi scoprono l'esito del televoto in studio e i dati sono inequivocabili, Nikita con il 47. 6% è la quinta finalista, Alberto De Pisis batte clamorosamente con il 28, 4% Luca Onestini, 24%. Sono tutti sotto shock, dal conduttore allo stesso Onestini. Alberto incredulo, sono piattrificato, il mio intento non era sfidare un amico. Ero convinto di uscire io. Una volta rientrato in casa De Pisis sembra essere in crivi e cerca di giustificarsi con i suoi amici spartani vi prego dobbiamo parlare di questa cosa. Voi lo sapete che io era certo di uscire io, mai avrei immaginato. Avevo una scelta molto facile che era Milena. Chi sapevo che non se la sarebbe mai presa, l'ho sempre detto sarei voluto uscire con un bel il televoto. El e de bun simt, se ridica stacheta, Liric vorbinta, ajunga la ea doar nasta cu racheta. S'o admire nave spaziale de pe Andromeda, Ăsta-i țelul, îl execut ca pre Maria Antoaneta. D'aia de când mă știu, te stui plin de dude, Dumele tante printre tale aculte, Încerc flow-uri sute la show-uri buite, Cum rup capete, lumea dă din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, Că nu s-a tât de nebun, Mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, Fii egoist, ar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, Grapper-ul din tot, tot MC-ul care am crescut, Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? 3, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 24, 24, 26, 20, 21, 23, 21, 22, 27, dot r旅ar... Grazie a tutti.